Buongiorno a tutti anche da parte mia, è un vero piacere essere qui e vi ringrazio anche per questo invito, sia Massimo Masi per tutta la segreteria. Massimo nella sua presentazione iniziale ha scorso rapidamente gli anni che sono trasporsi dove lui ha fatto il segretario generale. C'è da dire che in questo periodo il settore del credito ha dovuto affrontare davvero tante difficoltà, tante situazioni molto particolari, sono state anche riepilogate nei precedenti interventi. Ed il sistema delle relazioni industriali in questo periodo lungo di tempo è sicuramente stato un punto di riferimento dell'intero settore, perché ha saputo sempre individuare delle soluzioni costruttive, equilibrate per far fonte a tutte queste situazioni, sia quelle esterne, sia quelle indogene al sistema stesso. In questo contesto è innegabile che la Wilka e il suo leader Massimo sono stati i veri protagonisti per le loro capacità di contribuire con sensibilità politica, con pragmatismo, con tenacia, con un impegno personale spesso straordinario a trovare queste soluzioni e ad assumersi quelle responsabilità che ci hanno veramente consentito di affrontare diverse fasi, diverse criticità e di farlo in modo positivo ed equilibrato. Quindi per associarmi a quello che diceva anche prima Alfio, se ne è valsa la pena, io sono convinto che ci siano tutti i motivi per essere orgogliosi del lavoro a fare. E anche per questo motivo che a Massimo, a nome di tutto il gruppo, in particolare del nostro amministratore delegato, Piero Maioli, rivolgo un sincero saluto con gratitudine per tutto il percorso che abbiamo fatto assieme e con l'augurio anche che possa continuare sotto il profilo personale a togliersi le soddisfazioni nuove e tutte positive. Mi dispiace solo non poter essere in presenza fisica perché questa modalità toglie un po' di contatto e un po' di sensibilità che avrei avuto anche piacere a trasmettere con un abbraccio sincero ed affettuoso. Un benvenuto e un grosso in bocca al lupo anche a Fulvio e a tutta la Segreteria Nazionale, a cui anche in questo caso a nome del gruppo rivolgo l'invito a prendere questo prezioso testimone che Massimo passa loro e di proseguire con la stessa tenace d'ambizione. Di sicuro temi all'ordine del giorno ce ne saranno e ce ne sono già tanti e ci sarà modo per riconfrontarci, per trovare come sistema delle relazioni industriali, sia a livello di settore sia a livello di singoli gruppi, delle soluzioni positive. Io vi ringrazio ancora tutti e vi auguro buon proseguimento e buona serata. Grazie Gianluca, grazie davvero.